Detoxil è un olio purificante, ma prima di vedere come si applica voglio spiegare il perché del doppio zero sull'etichetta. Se la vostra cute presenta problemi di forfora, eccesso di sebo, prurito, i passaggi 1, 2, 3 del vostro kit non avranno questo effetto. Questo perché probabilmente la vostra cute ha bisogno prima di essere purificata. L'applicazione può essere effettuata una o due volte a settimana. Il prodotto deve essere applicato riga per riga sulla cute, a capelli ancora asciutti. Dopodiché massaggiate bene con i polpastrelli, emulsionate con acqua tiepida e risciacquate abbondantemente. Ora potete procedere con il kit adatto alla vostra tipologia di riccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.